Bene amici, oggi proviamo insieme finalmente l'Asus Zenfone 3 Quale? E in effetti avete ragione, ce ne sono 100.000 versioni È lo ZE520KL Gira bene, materiali interessanti, alluminio, vetro Non è esageratamente grande, fluido Ma non mi hanno ancora retroilluminato i tasti Porca miseria, ma lui diventa comunque quasi un best buy Grazie alle prestazioni, gira benissimo Andiamo a scoprirlo insieme E andiamo a vederlo più da vicino, questo Zenfone 3 Nella sua scatola tutta nera, lo scontrino Eh sì, nonostante io abbia 200 telefoni lì da provare Quando vedo qualcosa che mi intriga me lo compro Beh, l'ho acceso ma dopo andiamo a vedere il telefono Adesso andiamo a vedere la confezione Tipo C la USB Il caricabatterie esce a 5V 2A Quindi rapido, non rapidissimo Ci mette circa 2,25 a caricare completamente il telefono E poi l'auricolare che è di formato in IR Non vi dico per rimetterlo qua dentro come è stato faticoso Suona bene e ha anche i gommini per adattarlo ai vari padiglioni auricolari Parliamo del telefono Design non mi dispiace, è molto leggero 144 grammi Allora, finalmente uno Zenfone bello Qua a destra accensione, spegnimento e volume Zigrinati si riconoscono bene Sopra il jack per le cuffie, secondo microfono Qua il carrellino possiamo mettere o due micro Micro SIM più micro SD Oppure due SIM Una nano e una micro Quindi la micro SD alternativa alla seconda SIM Poi sotto l'altoparlante Il microfono, l'USB E dietro abbiamo un design particolare Il simmetrico, non mi dispiace questo sensore di prodotti digitali così allungato Il doppio flash qua il sensore infrarossi per la messa a fuoco veloce Ma se vedete sporge parecchio il sensore della fotocamera E se lo appoggiamo su un tavolo, vedete, fa un po' questo giochettino Nulla di trascendentale A me il design piace, davanti la camera da 8 megapixel Tra l'altro il sensore di prodotti digitali Che per la prima volta bisogna utilizzare Lo sblocco pin Ma poi funziona benissimo, velocissimo Dopo tap anche per attivare la fotocamera Si può anche scattare la foto Premendolo, dicevo davanti Abbiamo i pulsanti e mannaggia Non sono retroilluminati, ma perché Asus non mi retroillumini i tasti su un telefono Che potrebbe essere quasi perfetto Ma andiamo velocemente alle impostazioni Non all'NFC, strano Vedete qua, però ha l'USB OTG L'ho provato, funziona bene Anche il GPS funziona bene E tra l'altro anche un DLNA Vedete, serve un multimediale digitale Che funziona molto molto bene Come tradizione Asus mette tantissima roba nei propri telefoni Anche le impostazioni sono veramente 100.000 L'avete visto in questa rapida scorsa 6.0.1 la versione del firmware con la Zen UI Graficamente forse datata Ma molto molto personalizzabile Vi faccio vedere scorrendo velocemente il menu Ma andiamo a vedere come si può personalizzare E quali sono le chicche Per tutto la batteria Prima chicca Io avevo paura Leggendo la scheda tecnica Solo 2600 mAh Ma durerà mezza giornata In realtà dura tantissimo Giornata stress che si chiude Mediamente con almeno il 15% di batteria Residuo Qua dietro Ovviamente la batteria non è Non è removile Ma magari ve lo faccio vedere in diretta Oggi è il Mi pare terzo giorno Oggi è lunedì Sabato Domenica Lunedì Sì È il quarto giorno Che lo sto utilizzando E vi faccio vedere Come la batteria Stia reggendo Benissimo Prima di tutto la scarica Vedete È molto molto lineare Ho fatto Ad oggi Adesso sono le 6 3 ore 14 di schermo Usandolo tanto Guardate quante chiamate vocali 1 ore 32 oggi Sono andato a girare anche un test drive A Montevèche L'ho usato tanto come navigatore Come GPS Con Maps Ho guardato YouTube Il video che ho pubblicato Le risposte Insomma L'ho usato tanto E sono ancora al 30% di batteria Quindi veramente non preoccupate Poi ci sono anche risparmi Che però Praticamente non utilizzerete mai Perché Veramente Già Già così come è settato Va benissimo Tra l'altro Notifiche arrivano sempre Quindi in background Le applicazioni non vengono Non vengono chiuse Proprio per risparmiare energia Ma utilizzerà probabilmente Altri sistemi di risparmio energetico Ma parliamo di display 5.2 pollici IPS Full HD 424 ppi Gorilla Glass 3 Entriamo nelle immagini di testa Andiamo qua È bello Non ho molto da dire Non è un AMOLED Ma comunque un ottimo IPS Sia gli angoli di visuale Sia la luminosità Anche all'aperto Si vede bene Sotto la luce diretta del sole Anche i colori Che sono pur tarabili Si vedono bene Ok I neri non sono perfetti Ma rispetto ad altri IPS Mi hanno convinto maggiormente Insomma Promosso anche Il display Grazie anche al sensore Che è completamente Tarabile Se noi teniamo premuto qua Entriamo nella personalizzazione Della Zen UI Già la conosciamo Perché è praticamente Molto simile a quelli Degli Zenfone 2 Ma possiamo andare a modificare Veramente tutto Vedete qua Il numero delle pagine L'elemento delle icone Il colore delle icone Il carattere La dimensione Del carattere Possiamo andare A definire gli sfondi I temi Ce ne sono tantissimi Di temi online Alcuni gratis Alcuni a pagamento Ma devo dire che Ce ne sono anche di belli Io ho scaricato Un paio di temi Anche l'applicazione del tema È abbastanza È abbastanza veloce Ve lo faccio vedere subito E si possono mixare I temi Per avere Un proprio tema Diciamo personalizzato Sempre tenendo premuto Possiamo scegliere Qualsiasi pack Di icone Presente Compatibili Per esempio Con Nova Launcher Con i più famosi launcher Ecco Una cosa che non mi ha fatto impazzire È stata questo Il blocco delle applicazioni Perché purtroppo Non vengono bloccate le app Sotto In pronta digitale Ma bisogna utilizzare Il pin Vabbè dai Poco male Non è una cosa Trascendentale Altra cosa che mi è piaciuta Nelle preferenze La possibilità di andare a settare Diciamo La griglia Sia del drawer Sia della schermata Della schermata home E poi altre chicche Che avete viste Se facciamo swipe in basso C'è la ricerca universale Doppio tap Il telefono si spegne Lo sblocco È veramente fulminio E l'impronta Ce la legge Praticamente sempre Sempre E subito C'è l'uso una mano Guardate Anche se su un 5.2 pollici Magari può sembrare Non utile Ma in realtà Io lo trovo utile Comunque un telefono Che non scivola Anche se lo utilizziamo Classicamente Quando utilizziamo una mano Il telefono un po' grande Facciamo così Facciamo affidamento Sul grip E vedete È un telefono che fa Devo dire Parecchio Parecchio grip Ma parliamo della parte Telefonica Chiamiamo il 190 Dual sim Gestito veramente benissimo Si può addirittura Scegliere Quale sim Utilizzare Quando si utilizza La macchina Il telefono in bluetooth Tipicamente in macchina Benvenuto in vodafone Ti ricordiamo Che la chiamata Al numero 190 È gratuita Allora Sentite Il volume è buono Possibilità di registrare La chiamata No porca miseria Ho chiamato con la sim wind È vero che ho messo dentro Anche la seconda sim Vabbè Tant'è Pazienza Si possono cambiarle Su un ride Da sim 1 E sim 2 Differenziarle E il dialer È intelligente Perché ricerca Prima che nei contatti Nelle ultime chiamate Tra l'altro Si sente molto bene La capsule auricolare E anche la ricezione Non ho avuto Il benché minimo Problema Vi faccio vedere Le mille applicazioni Che Asus Installa Sul proprio Sul proprio smartphone Una è veramente carina Il righello laser E guardate Possiamo misurare Le distanze Cosa fa? Lui praticamente Sfrutta Diciamo qua dietro Il sensore laser Per andare a misurare Peccato che non riesce A misurare distanze Superiori al metro e mezzo Ma se io metto Buzz qua vicino Vedete Faccio così E lui mi dice Che è a 12 centimetri E mezzo Quindi distanze Sotto al metro e mezzo Vengono misurate Veramente con grande precisione Grazie proprio al righello Poi le classiche applicazioni Per il college delle foto Sharelink Web storage I temi Potenza incremento Insomma ce ne sono mille E c'è anche l'immancabile applicazione Che troviamo Veramente ormai Ultimamente su questi Tutti i telefoni Per andare a fare Un po' di manutenzione Al telefono Ci sono delle opzioni Un po' avanzate Magari per Chi è un pochino Più addicted Ma devo dire Che il telefono Va già molto molto bene Così out of the box Se facciamo uno swipe in basso Vi faccio vedere un'altra cosa Ovvero la possibilità Di gestire Le notifiche Direttamente da qua Con la possibilità Di dare priorità A una notifica Rispetto all'altra Oppure decidere Quali notifiche far arrivare E quali non far arrivare Ma non è la classica gestione Diciamo di Marshmallow Ma è una gestione Proprio sua Di Acer Vedete qua Ci possiamo fare anche Un'idea Di quanti Messaggi Quanti notifiche Quanti notifiche Questa applicazione Ha bloccato È tutto fluido E veloce Questo so Con lo Snapdragon 625 Mi piace tanto Mi sa che è il nuovo Snapdragon 400 Non so se vi ricordate Perché qualche anno fa I telefoni con lo Snapdragon 400 Erano tutti dei best buy E mi sa che quest'anno È l'anno del 625 Va velocissimo Questo telefono Apre le applicazioni Molto velocemente Adreno 506 Ok che qua abbiamo 4 GB di memoria RAM E abbiamo anche 64 GB Di memoria integrata Quindi anche la RAM Ci mette Ci mette del suo Ma devo dire che Guardate come gira Anche ho appena aperto Facebook E devo dire che Non c'è nessun tipo Di lag O di rallentamento Sì qualche micro lag Ok ma Avevo appena aperto Facebook I dati non erano ancora arrivati Tra l'altro avete visto Il Wi-Fi Come è veloce Proviamo a scrivere qualcosa E qua Una cosa che Finalmente non va Ovvero la tastiera Non mi piace assolutamente Cosa non mi piace La correzione ortografica Questa è la tastiera Zen UI Si può andare a modificare E installare qualsiasi tipo di tastiera L'altra cosa che non mi fa impazzire È il feed La vibrazione È vero che è tarabile Più leggero Più forte Più potente Ma rimane sempre Un po' zanzaroso È una cosa che non fa impazzire Il multitasking È gestito come piace a me Ovvero Ovvero schede Torniamo alla home Chrome gira bene Non mi dà Non mi ha dato mai Nessun tipo di problema In questi giorni Andiamo su Su automoto Punto it Tra l'altro l'ho usato Veramente tanto Chrome in questi giorni Perché ero a Monza Dovevo guardare delle cose Ho letto i vostri commenti Ieri sono stato Ho pubblicato la recensione Un ristorante Non stellato Ma che se no Dovrebbe essere Allora ho contratto I commenti a smartphone E devo dire che Guardate Non mi ha mai tradito Torniamo alla home page Gaming Allora Non vi sto a fare il pippone Su Real Racing Avete visto Si apre in 35 secondi Quindi non Velocissimo Il Nova Plus Che abbiamo portato Qualche giorno fa Per esempio Con lo stesso processore Si era aperto In secondi in meno Ma qua abbiamo Questa applicazione Che fa un po' il verso A quel game center Che troviamo Sui 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 telefoni Samsung Dove possiamo Velocizzare il telefono Registrare il gameplay Fare streaming dal vivo Oppure registrare il locale Sul telefono E possiamo anche attivare Volendo una seconda finestrella Qua in alto a destra Che ci riprende Dalla camera anteriore Vedete Ciao siamo qua E quindi fare uno streaming Della doppia Della doppia fotocamera Gameplay Più le nostre magari Considerazioni Sul gioco Insomma devo dire che Non male E poi Real Racing Gira assolutamente bene Una volta Che lo Che lo facciamo partire Torniamo alla Alla home page Vi parlo un po' Di multimedialità Entriamo nella fotocamera Chiamiamo raccolta Buds Anche qua Un po' come su Tutta la Zen UI Tutto il telefono Le opzioni sono 100.000 A partire Dal numero Vedete Delle modalità di scatto C'è La modalità automatica Manuale E andiamo a vedere Cosa si può Settare in manuale Sono tutti questi parametri C'è anche la velocità di scatto Tra l'altro Che non c'è proprio In tutte le modalità manuali HDR pro Perché l'HDR normale È automatico Si attiva volendo automaticamente Qua tutte le altre Possibilità di scatto Torniamo in modalità Completamente manuale Per fare il punto e scatto Vedete qua L'HDR Automatico Off o On Anche il flash E nelle impostazioni Guardiamo La risoluzione Sensore in 4 terzi Scusate 16 megapixel Vedete Se no si scende a 12 Abbiamo la stabilizzazione Ottica dell'immagine Che aiuta Quando c'è poca luce Oppure quando giriamo i video Ma facciamo un bel punto e scatta Questo è Buzz Là siamo più lontani Qua siamo più vicini Vedete messa a fuoco Che grazie al laser È veloce Direi Mezzo secondo A scattare Ho fatto tanti punte scatta Perché mi sono portato Come avete visto Dal demo video Monza Questo telefono E ho fatto Dei belli scatti Prima di tutto Bella anche la galleria Ha una chicca Il cestino per le foto Mi sembra che solo iOS Abbia questa funzionalità Su Android Non ci sono tanti telefoni Che la hanno Vedete Cestino Possibilità Quando cancelliamo una foto Di buttarla lì E non di cancellarla Immediatamente Tra l'altro Nella galleria di Asus Possiamo aggiungere Tantissimi servizi Guardate qua Da Drive A Dropbox Facebook Quindi una galleria Che può fare da hub E poi La possibilità di vedere Le miniature Grandi o piccole Ma partiamo A raccontare Questa giornata Fantastica Monza Con un pass VIP Grazie a Red Bull Che mi ha invitato Ma ho passato Una giornata fantastica Un pass Incredibile E qua Non è che ho fatto Questa foto Per evitare di pagare Una multa Ma sono stato fermato Da un simpatissimo Poliziotto lì A Monza Che mi segue Allora ci siamo fatti Un selfie Per valutare La camera anteriore Tante gomme Sotto termocoperte Questa è una foto Per valutare I chiaroscuri Con camera anteriore L'ingresso Del box Ferrari Con il palmarès Ragazzi Questo palmarès Vediamo di aumentarlo Un po' E vi racconto Là dietro Vedete Dove c'è quel bianco Rosso e verde Sono tutte cellette Dove Meccanici Tecnici Ingegneri Ripongono le proprie cuffie Prima di andare Al motorhome Ah questa è stata simpatica Prima di tutto Assomiglia A Bud Spencer E Là su Un grande saluto A te Bud Spencer Che mi hai fatto divertire Tantissimo Quando ero ragazzo Ma cercava di fare una foto A me e mio figlio E probabilmente Non si era accorto Che era attiva La camera anteriore Allora si è fatto un selfie Qua valutiamo i colori Sono stati catturati Molto bene Sì sono andato con Gabriele Mi sono divertito Un casino Video Allora Per quanto riguarda i video La stabilizzazione ottica Si vede abbastanza Ben stabilizzati Buoni Coglie bene dettagli C'è l'opzione per Girare anche in 4K Purtroppo non c'è l'opzione Per girare a 1080p A 60 frame per secondo Quindi solamente 30 frame per secondo Io preferisco sempre I 60 frame per secondo 1080 rispetto al 4K Ma vabbè Tant'è È così Sono riuscito a farmi Un pranzetto gourmet All'Hospitality Di Red Bull E qua dentro i box Ragazzi che raccontarvi Io vi racconterò più Della qualità della fotocamera Che avete visto È buona Vi racconterò di come sono organizzati Come sono puliti Sembra veramente Una stanza Di un ospedale Il box Delle Formula 1 Sono tutti Veramente lindi Guardate per terra Queste non sono macchie d'olio Sono dei buchi Nel pavimento Stavano sistemando Prima delle prove E guardate qua nel paddock C'è Un recinto fatto apposta Dove i piloti Dopo le prove O dopo la gara Si vanno a mettere E tutti i giornalisti Intorno Gli possono fare Le interviste Qua abbiamo Beh lo riconoscete Assolutamente Raikkonen E vediamo come funziona Lo zoom Avete visto che Non sgrana particolarmente Devo dire che Non è male Oh e qua lo zoom Ve lo faccio io Su Claudia Peroni Ragazzi guardate Non cambia mai Sempre venerde Evergreen Io me ricordo ancora Grand Prix Quando ero ragazzino E mamma mia Quanti sogni Non si può dire Di che tipo Con Claudia Peroni Sempre una Grandissima professionista E qua Guardate la foto Al buio Che è venuta bene Devo dire nel box Flash Buono ma non potentissimo L'abbiamo visto In questa fotografia E qua le foto al buio Che sono buone Ma secondo me Non sono a livello Delle foto Con tanta luce Insomma Foto Direi molto bene Con poca luce Solo Ma più che discreta Se devo dargli Un giudizio Ma veniamo Al prezzo La conclusione No 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 Voi pensavate Che io mi fossi Dimenticato dell'audio Invece no Vi dovete cuccare Bublé anche a questo giro Alziamo il volume E tra l'altro Volumi Bello perché Alziamo e abbassiamo Da questo pulsante Ma li possiamo poi Regolare tutti Play Allora si sente bene Riproduce bene Praticamente tutto Forte e chiaro Anche con le cuffie Anche le sue dotazioni Si sente bene E soprattutto È presente La radio FM Eccola Torniamo alla Alla home page Facciamo un po' Di considerazione In Italia costa 379 euro Di listino Ma secondo me Presto Lo troveremo Al 299 Un so Veramente riuscito Questo Snapdragon 625 Ottima autonomia Veloce Fluido Reattivo Ottima parte telefonica Fotocamera molto buona Insomma Ci siamo veramente Su tutto Entra Di diritto Tra i miei preferiti Nella fascia Entro i 399 euro Ma caspita Ma cara Asus Ma cosa cavolo Ti costava Fare i tasti Retroilluminati Insomma Fanno 30 E non fanno 31 Vabbè Comunque Promosso Vi aspetto Per la recensione scritta Su